Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parliamo di infissi senza spendere un patrimonio. Ti dico subito che se cerchi un lavoro accurato e garantito, il titolo che ho dato a questo video non è possibile. Perché comunque un infisso deve garantire tantissime cose. Ti deve garantire ad esempio un isolamento termico adeguato, un isolamento acustico, una tenuta all'aria, una prestazione di tenuta all'acqua e una prestazione meccanica. Perché l'infisso deve essere apribile, deve essere trasparente, deve fare veramente tantissime cose un infisso. Come può avere un costo basso? Credo che sia proprio impossibile. Oltre a questo un infisso deve anche essere posato come si deve, deve essere anche garantito, garantito proprio come garanzia, ma anche come assistenza nel tempo, perché se fai una scelta fatta come si deve un infisso 10, 20, è un po' poco, diciamo 30 anni, 40 anni, 50 anni deve durare. Quindi è importante investire il corretto budget all'acquisto di nuovi infissi. Inoltre non abbiamo ancora parlato degli accessori che vanno dietro all'inchisso, perché un infisso fatto come si deve avrà un controttelaio termico fatto come si deve, con l'appoggio in opera, non con il silicone alcuna volta, ma con delle tecnologie che ti mettono a riparo, dei problemi di muffa, di umidità e di condensa. Ecco, tutte queste cose ti dovrebbero far capire che probabilmente un infisso, che non costa un patrimonio, patrimonio tra virgolette lo usiamo anche un po' per scherzare, comunque sarà difficile. Giunici casi dove magari puoi veramente cercare questo tipo di infisso, e se sei un costruttore, o se hai una casa in affitto, in questo caso ti posso capire, però purtroppo con il sistema Pisacchi non abbiamo la soluzione a questo tipo di esigenze, perché a me non piace scendere a compromessi, se so che nel lavoro l'ho fatto in un certo modo, io lo faccio in quel modo lì. Insomma, non vado a togliere delle cose, a togliere delle caratteristiche o dei sistemi di qualità per fare costare meno un prodotto, anche perché poi non sarebbe in linea con quello che vogliamo dare ai nostri clienti. Quindi, se vuoi un lavoro curato, se vuoi bere una casa confortevole, luminosa e duratura nel tempo, vai su www.bisacchi.it e richiedi una nostra consulenza. In tutti gli altri casi, mi dispiace, ma non posso aiutarti. Puoi comunque seguire tutti i video attivando le notifiche e seguendo il nostro canale, e in modo gratuito prenderai comunque tanti spunti che ti metteranno al riparo da delle fregature. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!